Come un uomo, hai bisogno di cose che quasi ti uccidano e non ti uccidano. Io sono ricco non perché del money, io sono ricco perché ho avuto un po' di shit. Non vedo nessuno di questo planeto ricco di me perché sono troppo vecchi o la vita è troppo facile. Fare esercizio fisico per me è fondamentale, anzi è cruciale, è indispensabile. Chiunque non faccia mio parere, allenamento fisico non muova il proprio corpo almeno due o tre volte a settimana, è in gravissimo pericolo. Quello che cercavo una volta che mi sono iscritto in palestra era proprio un posto che fosse non più di dieci minuti di camminata da casa mia. Proprio perché non volevo un ulteriore sforzo nel pensare di dovermi allontanare di tanto da casa. Il secondo motivo per cui ho scelto questo posto è perché è un club, cosa vuol dire? È un club privato quindi fondamentalmente solo le persone con la membership possono venire ad allenarsi, utilizzare gli spazi comuni. E questo è fondamentale perché? Perché mi permette di entrare all'interno di un mindset per il quale io mi alleno magari la mattina di giovedì, di mercoledì, di martedì, durante i weekdays. Dove solitamente le persone fanno un 9 to 5 e le persone che vedo qui sono persone che non hanno un 9 to 5. Conosco persone che probabilmente sono nel posto in cui vorrei essere io. Mi dà un senso premium, cosa vuol dire? Questo speaker americano che dice io spendevo soldi in business class quando viaggiavo con gli aerei semplicemente per mettermi nello stato mentale tale per il quale avrei dovuto sforzarmi per cercare di trovare di nuovo i soldi per viaggiare in business class. Perché una volta che viaggi in business class e finisci in economy ovviamente hai un downgrade importante mentale che sicuramente ti fa tra virgolette soffrire, ti crea un danno, ti crea un pain. Ok? Painful. È doloroso. Del fatto di spendere più soldi, il fatto di avere un posto premium, mi dà l'impressione di essere a un determinato tipo di livello e lotto per stare a questo livello. Un'altra cosa interessante di questo posto che in realtà non ho ancora utilizzato è che avendo una membership con loro mi dà l'accesso a tutti i club in Europa. Quindi fondamentalmente se domani partissi e andassi a Parigi o andassi ad Amsterdam con i miei amici, con le Eurostar, potrei avere l'ingresso per me all'interno di queste strutture e poi magari pagando un po' di più anche per loro. E quindi il personal trainer è una figura all'interno della palestra che ti può aiutare, ti può dare una mano e ti può sicuramente indirizzare i primi periodi. Quando ti viene ad allenare, impari gli esercizi, i movimenti, se sei un beginner o whatever. Sono diventato amico di questo ragazzo molto giovane, a 22 anni, che ha appena preso il certificato per diventare PT. E la cosa incredibile è che lui sta accendendo i suoi profili TikTok e gli sta dando una mano col montaggio o con la registrazione di questi video che fa. E in cambio lui mi aiuta dandomi appunto training sessions. Quindi ci alleniamo insieme, mi fa vedere gli esercizi. Non solo è fondamentale per farti vedere il movimento corretto degli esercizi e evitare che tu ti faccia male. Ti permette di risparmiare tantissimo tempo. Perché nel momento in cui tu ti stai riposando e stai capendo quale altro esercizio andrai a compiere, se sei con qualcuno, io spesso vengo col mio conculino che è sempre iscritto, lui riesce a darti un overview dell'allenamento molto più veloce. Quindi il lavoro dei PT, il lavoro di ogni tipo di professionista è di portarti dal punto A al punto B, ma in realtà tu potresti arrivare da solo al punto B, cioè il tuo goal. Il suo lavoro da professionista è quello di portarti dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Un posto in cui tu arrivi, ti trasformi ed esci ricaricato ti permette di abbassare i livelli di stress, migliorare la tua presenza fisica, migliorare la tua relazione con te stesso. E quindi da lì migliorare nel business, migliorare nel lavoro, migliorare in quello che fai, essere sempre più sharp. E ti dà una traiettoria importante, una traiettoria che ti permette di crescere in quello che fai. E tutto parte dallo sport, tutto parte da mettere il proprio fisico in condizione di lavorare bene. Se il nostro fisico lavora bene, allora anche automaticamente la nostra testa lavorerà molto meglio. Se la nostra testa lavora molto meglio, raggiungiamo i nostri obiettivi nel minor tempo possibile. Il prezzo è aumentato. Nel 2022 pagavo 167,5 sterline al mese con una joining fee di 125 pound. Dal 2023 è aumentata a 187,5 pound al mese. Quindi sono all'incirca 200 euro. Perché io pago questi 200 euro al mese? Cioè il valore che io ricevo nel spendere questi soldi è più grande nel valore che io do a questi soldi stessi per questa specifica spesa. Vi ripeto, non è che tutti devono andare in una palestra e spendere 200 euro al mese. Però è importante dare valore, trattare al meglio il mio corpo perché è il mio asset più importante con il tempo. Quindi prendetevene cura. Grazie per l'attenzione. Spero che sia stato interessante e possa esservi stato d'aiuto. E ci vediamo al prossimo video. Bella lì. Ciao a tutti. Bella lì. Ciao a tutti. Ciao a tutti.